Si sono introdotti all'interno di un appartamento al primo piano, approfittando della presenza di un'impalcatura. È successo in via Vittorio Veneto, dove alcuni malviventi hanno messo a segno un colpo nella notte tra lunedì e martedì, prendendo di mira la sete di un'associazione. I ladri, utilizzando i ponteggi allestiti per i lavori di ristrutturazione nella facciata, si sono arrampicati sino al primo piano della palazzina. Hanno poi forzato la finestra di un appartamento ed infine si sono introdotti all'interno del locale. I malviventi hanno portato via solamente poche cose, un computer dei cellulari ed il poco denaro trovato all'interno delle stanze, ma sono molti danni registrati all'interno dell'appartamento, messo letteralmente sotto sopra. Sono state infatti spaccate le porte degli uffici ed è stato rotto il lucernario. I ladri, dopo aver rovistato ovunque, si sono dati indisturbati alla fuga. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. All'episodio stanno indagando i carabinieri.